Da dove vieni? Turchia Sei un supporto inter inter? Assolutamente! E quali sono i tuoi sentimenti oggi? Sì, sono davvero felice che vengono il titolo a mattina e il migliorista è da Turchia, Hakan Çalhanoglu e siamo davvero orgogliosi di lui È Celanoglu il migliore giocatore dell'Inter? Ovviamente, ovviamente, migliore di più che Lotharo Ma hai venuto a Milano solo per il match? No, è solo le conseguenze Siamo venuti per il viaggio e abbiamo visto tutte le celebrazioni Come hai venuto a celebrazione? Solo... Stai spiegando in questo car Stai spiegando in questo slogan Stai spiegando in questo senso Stai spiegando in questo senso Stai spiegando in questo senso